E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Borderland Coppa in compagnia di Leader Ghost Romano e Darkinus Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il primo boss di questo gioco che si chiama Nine Toos Tu... To... Toos Vabbè, Nine Abbiamo sconfitto il primo boss, abbiamo trovato anche una cassa che abbiamo affrontato un po' di Skag Tra un po' ci morivamo pure, c'è stato un po' di rischio Siamo usciti a prenderla e a ritornare nel mondo principale Adesso consegneremo questa quest e vediamo cosa succederà in questo nuovo episodio Io vi auguro una buona visione e un buon divertimento Oh, stanno i fregnetti Arriva Ilvio ce n'ha viva, la tappia Ma che bello, non ci ha dato un sordo quel pezzo di merda Cioè, regà, non ci ha dato un cazzo di sordo Ma come... Ma come... Ma se torni alla base, ti refugge? Non credo Mi sono tolato con un cazzo Oh, i miei danni non sono a vedere se è di un po' E' pure il brusso del cuo E' pure il brusso del cuo E' pure il brusso del cuo Ma è bello che non ci eravamo accorti, vero? Ehi, sei tu quello che hai soffi i problemi quando uno te lo chiede? Porca, troppo E' che c'era il vicino fai? Servi a luci a pezzi della cosa tra le gambe della mia cara mamma Apprezzerei davvero se ci dessi un'occhiata Al sistema, non alla mia mamma Strati a fondo una data di schede, non so se mi capisci Allora, diciamo, sentiamo noi che non va Tirati su Al sistema non alla mia mamma Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che te sa il culo? Ho fatto un po' di big money, scusate Non si crede La serie a farmi macerina, se ci saranno burssi Questi non hanno un cazzo Una cosa incredibile Se non viene cercato un po' Spetta un po' danno per 11 Un po' confrontino Ah, cinque da 5 a 45 se basta Ecco da muova, porco addissima Questo c'è effetto alto che dà fuoco alla gente Questo c'è da muova Casa Spetta E' efficace contro la carne Unissimo E' un nemici umani Unz,unz,unz,unz Unz,unz,unz Unz,unz K, bug, visita... Ma andiamo, andiamo, andiamo Tanto che mi sono andato in tutto quattro Danni proci, eh, regà? Vabbè Qua pronti a cagliar, cazzo Non c'è via, troppo lontano Troppo lontano c'è chi, non c'è via Ah, finalmente, quel cazzo di fucite Ma l'hai comprato? Eh, porco Diz, stavo aspettando che lo trovavo Ne l'ho preso Ma io, no, ma io non l'ho trovato neanche da comprare Io devo mettere il puntabilità ancora un po' Non so che ramo da più lupà Ah, quindi il primo e poi il sciocchino Chiarzi, l'inacca, l'inacca Ah? Chiarzi, l'inacca Ah, c'è un ramo diverso Beh, un attimo Non so che ramo male Attenzione, verrai terminato, attenzione Allora, aumenta la carica del tuo shield Gli attacchi corpo a corpo Attenzione, ultimo avvertimento Ma cosa? Attenzione, stai in Attenzione Ma che è attenzione? Ma che è attenzione? Ritorna Attenzione Attenzione Ultimo avver Attenzione Verrai te Attenzione Attenzione Verrai te Attenzione Verrai te Attenzione 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 Ultimo avvertimento Verrai terminato Verrai terminato Controllo Elementi Tanto è questo Tanto è questo del laio Tanto la canzia poi sviluppando i due dei rami No male, ho uno solo Te ricordi Mi vale uno Vabò Ah, questa è lì E caccia raid usato Premi la mano e spende io E' la cosa? La pilotina regà Tocca guidà Che cazzo? Senti quanto fa male questo frocio Ma lo senti? Non è più il giocattolino Oh non me l'ho fatto schivare io Oddio che cazzo Però per niente abbiamo stato tutti vicini Coddisse ti ho tranciato la mano procio A qualcuno serve dell'energia Ah livello 7 regà Devemo salire di livello Torset da Mercoso Che che ha detto? Devemo salire di livello regà Perchè tutti dovemo salire al 7 Chi è che non è al 7 regà? Io Tutte e tre Eh lo tocca andamassato C'è scritto sotto Sotto la barra proprio Adesso non sta la mappa sotto Dove vedi tutti Quanto ve matta regà al 7? Oh lo dimostrare A mettere Eh allora regà tocca A presto Apri tempo essi Poi Allora Quello è a livello 10 Manu Aia Dovevo 11 Dada 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 Un po' che vale Qua c'è dell'energia Qua c'è dell'energia Oddio Madonna quanto Il rosso Ma che è No regà Molto Sto fanduto via regà Dada Ragà viamente Mettiamo Ok ma Se la trabocca non ci fa E no La Ma Io Io la bocca che voglia di squattere vabbè raga fulano a me se non l'hai mangiata è una spada ma stiamo domani raga ma se vuoi che lo sono perso è ancora una cosa vado raga cazzotti partite ecco l'hai spaccato porco de avrebbe spaccato l'ho ok ma adesso non lo stai più sparo chiede che noi tutti moriremo qui no perchè gli avete risparato non lo stai più spazionale Guarda quanto costa ricostruirsi rega, guarda i sorti di commensi Allora non c'è stata un'altra missione Ma no rega ce ne abbiamo tre due missioni Il problema è che ne potremmo fare perché so' 7,7 e 9 Cioè io sto a 7 però non serve per poi ma quanto cazzo me manca 1,2 barra e mezzo Ma resta ancora là che ho fraccio regato A barra e mezzo Ma con chi cazzo ce l'ha? Ma sa sta piacchisca di piccoli Ah no si è caricato il bandito Caccola ho visto sarta e c'era più il bandito Ehm rega v'è qua Ma come fai il rapporto? Che cazzo l'ho usato? E io Ma vaffanculo va A livello 10 però questa Stavo troppo indietro rega Dai andiamo sti cazzi Poi se per annalare cosa vedendo dove lo possiamo Sì è quello Guarda chi è andava a fa prima rapporto? No no ragazzi si può andare anche qua Deve è spontaneo Guarda chi c'è sta rega? Guarda chi c'è sta rega? Che c'è? Ah via tu errei capito vedi sta rega a mezzo Te volevo di fra tu sei il capogruppo un po' sta un'altra missione metti una gamba per ti capo Guarda 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 che sta dove c'è nel bandito Mi sto cercando dove vedo come posso fare? Premi tab Mamma mia Ci stanno le missioni Dai le quazze missioni Dai palle Dai rega basta grazie sto progetto Ma non lo ho in grado Non c'è da manco qua stato vicino io Ma donna mi ha levato 13 Rega andammi a consegnare queste questa qua Non è mai ne ha fatto 13 io c'ho quattro di vita adesso Franco c'è sta una missione Allora tieni premuto lo tab Oh vai su missioni c'è sta scritto il furto di bonhead per fare l'albero e una gamba per tk Eh il furto di bonhead è a livello 10 Sotto c'è sta per fare l'albero e una gamba per tk Per fare l'albero Oh vieni qui Vieni qui qua Vieni qua Vieni qua Vai qua sopra Andammo Come ce fa andammo Come ce fa andammo Ci devi avere le missioni frasi C'è sta scritto per fare l'albero una gamba per tk Oh io c'è sto premendo C'è sto premendo F qui ecco Non me lo premo O premi tab Trammissioni possibili Che ti da solo il furto di bonhead Sì poi per fare l'albero Ah ecco farò fare l'albero Porco tk Eh no fai su una gamba per tk Eh no fai su una gamba per tk Famo quella intanto che del livello medio gliela famo Sì proprio che del livello medio gliela famo Sì proprio che del livello medio Sì proprio che del livello medio Ma che non mi dà Dai su quel livello 7 che del livello 3 No io so 13 di vita Io mantengo in funzione le campanelle Sì proprio io Se minnetevi Sì proprio che faccio Dobbiamo Ho guardato Siamo Fake Adesso Dosta Ma io č raccomandzo Non mi Perché Come Siamo Certo io non vorrei di niente ma c'è stava Silvio che veniva ancora perseguita da quello là quando mi scappo due ma Silvio si è innamorato di te lo ho sparato a casa questo che c'è qui ma che cazzo ah questa l'hai messo in secondaria che vogliamo fare? e puoi rimettere quella di prima che non ce ne fotte un cazzo di questo cosa ci fa qui ma guarda c'è stata un po' da roba metti una gamba per tk è la missione che ce l'ha di più fra un salito di livello da noi eh ce ne sto no stai per fare l'albero porco den no l'ho tagliato ok scena pronti via oddio tronzo non c'ho avuto paura ottico a bolla oddio eh questo sbuffa ok ok scopo oh ok ora ma che è raga tutto sangue io sono berserick io mi dite senti questa è tutta raga ho male voglia ecco 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 il secchio da solo ma che cazzo dovrei farlo che pizzo per me ok ok eh per me su eh me stanno sputando a qualcuno serve energia put indipendible ma come cazzo ma ragazzi sono le prime livelli del post che mi sembra che più avanti poi ti stai rigenerando la vita la tua si andiamo a montare qua guarda qua devo puntare su dei dei cuor fucile a cecchino ti potenziare quella merda del fucile no io so salito io so salito lì lì lo stai certo e cos'è questa no 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 ma pure in fuoco sei ancora in fuoco no 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 oh no 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 la sabbia non sei perché dopo la prima volta e per forza questo dato ancora cazzo non non è un fuoco è un fuoco è un fuoco omicida allora dicevi 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 Ale non so chi dovevi contare non dormire eh se sto non dormire no sull'artelare 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 l'artelare ecco 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 si ah ma all'inizio è assente eh no un po' così in sotto vediamo se questo è proprio il cazzo no non si però vale che ho messo sta cosa di fuoco capito? mi sa che va in base a quanti ce ne sono allora fammi vedere un po' uno sta là, uno sta lì, a destra c'è credi che non ci arriva da qua c'è credi che abbiamo sbagliato strada porco, disse ecco perché stavano beccati ai mostri raga dietro di noi sta la cosa ma che cazzo da voi diciamo becchi i draghi sì, grazie ahahah ma l'altra cazzo da mannare dio santo ma io sto a seguire voi cercavo gruppo ma io so c'è chi cazzo vuoi, sta avanti da tutti i dettagli tocca farci io largo come so vai bene? tocca farci io largo se rega e che è uguale no 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 rega basta la sortata da qua, guarda io sono arrivato io sono arrivato da qua no vabbè, è uguale no che è nel boss ecco rega, è quello chi è? star è lo spar è il boss scooter leone oddio salta è un cazzato nero qui dì è quasi dove c'è scarate io non ho portato un c***o mob che non è arrivato a 10 a destra io a destra io e muori progetto a lei mi sei sembrato tipo rambod nella cielo oddio oddio ma basta ci stanno pure gli uccelli dai c'è un c***o 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 ma non ho ammazzato non serve dell'energia ok, una f***a guarda che c***o una f***a c***o c***o e non è hai fatto un tempo? eh direi sì vabbè direi non è c***o c***o il c***o ok, gamba di chi va che deve star qua il terzo del secchio che stava la era quello che è stato la gamba testo progetti dice che sta attualmente sinistro perciò perciò sarò la campanella storica dovrebbe stare qua no vabbè si è pagata la missione non so come una roba forse sta sotto per favore no perchè vedi fanno vivino con le gesto acqua d'ostarca la vera del testo è un mossa ecco questo dovrebbe avere l'hanno c'è un po' ancora ecco basta come fai a staccarla? guardi che daveri che abbiamo fatto si ma come fai a staccarla? ma che la gambe? era un certo raga ma perchè è rimasto attaccato? insomma che giro per cazzurano un altro posto no, facciamo pure quell'altra che sta qua dentro perchè c'è un'altra è quella lì che ti dicevo ehm, dove sta? ah quella di registratori, è un posto no, eccola in fatto che questa qui ci dà ehm mille no, duemila di esperienza più mille e sette quasi dei eppiamo se la ricosta è possibile un giovane scaghe morto come c'è un po' epple 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 vabbè adesso stannoedarlo guarda lì sei proprio mi sta a morbidare nprulo Dove cazzo sta sta cosa? Allora Vado a casa lì qua sopra Cazzo Tanti orgasmi Ah c'è sta il muro invisibile Il muro invisibile Bello Sono 98 i squadroni E' riga lo hai dietro Questa non è la strada che abbiamo fatto Che abbiamo fatto oggi C'è proprio qua Ok no rega stavamo andando per te Ci vado 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 Iniziali Non bucks Fげ Vabbè, l'altra parte Buono, mi sento già meglio Il grosso è più cattivo Ma io mi vedo il telefono di madre se il carico più c***o su Certo raga, porco dana, ti danno 6 di esperienza a questo Oh, che c***o stiga azzio Allora, allora Allora, che c***o Non c***o, non c***o Giusto, giusto L'abbiamo preso, oddio Arriva al petto, arriva al petto Vabbè, io faccio quest'ernale che allora Vabbè, vorrà Vai raga, io vi attiro e intanto vado a prendere le distrazioni Credo Sto uscito fuori dalla mappa Ok, e l'altra dove sta? Oh madonna, madonna c***o ... Oh madonna, attrava all'interno Questa, non c***o franco ma è cascata la linea ma perchè è lui che è la nostra vita si invita amici darmi un segnale a queste cose ah è entrata vuoi invitata ma io ho schiacciato ma non mi sta facendo intanto sto sto continuando a essere attaccato quindi devi fare invita muovete dovrei rinvitare un e per forza un profano ho detto che avevo stato io la partita vai per evitare e non entro porca cosa dove faccio il mondo da ma mi penso ma me lo faccio ah ma io quando ho riattivato internet no il punto no una registrazione anche a me carico no vabbè una registrazione ce l'ho dato è stata una 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 di attenzione attenzione Scusi, perché c'è stati i cosi qua, hai distrutto il mio niveto? Senti questo! Scusi! Allora Ale! Non ci vanno adesso la piada di cosa No, intendo... Quante ne... quante ne erano le registrazioni prese? Ah, che male! Una Dai che no, pia sta merda rega, cosa fa ste? Mi hai messo un rilevato Mi tocca riammazzare il boss No Ma dovete mandare? Non lo so, seguite voi perchè a me mi dice che c'ho due registri Una registrazione già presa No, dov'è, un attimo Mettete in casa questa via via, dretto per dritti Allora, dov'è manca la registrazione No, dov'è mandare la domanda della spagata strada io Quattro è... Un attimo Non si tu ne faceis 우리가 qui Qui? Quagg Arch Miserica Miserica Ecco la Seconda, vici sono, se ne dà Non è avuto Non è avuto Non è avuto Non è avuto Cosa Cosa Bene Non ciò Ma non ciò Quattro Fini Avuto Non ciò E Cipolle Ehm, come veda un po' Ehm, come veda un po'? Perchè? 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 Non mi serve più il medico Non veda, ah, no Qu'è? Qu'è, allora da ragazzo ancora? che palla? che coglioni davvero vanno a sparire un'altra ma non c'è un canale manca un canale è energia è energia è energia no 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 raga da qua dobbiamo andare direttamente alla eh andiamo tornati all'inizio da qua ci potevamo poter trasportare all'inizio oh no spedi bone junction underdom raga non c'è una prima registrazione io dai vuoi mo te la segna pure a te un bug pure almeno me la segnavo mo me la segnavo oh dai da affatto a te che vanno oh che coglioni farai imposta quell'arte prima e da più esperienza da consegnare ma bene cura l'ho passano a me la voglio credere foto ma non lo fa no scaricisi come diceva 0 1 0 1 no fai rapporto no no l'ho l'ho consegna io mi do è perfetto, no, lo potevamo smettere tutti ci vado a tutti il po' il vero sempre piacere è un po' di compagnia è un po' di compagnia è un po' che dura guarda un fucile è un sacco di gente appena il tempo di aiutare se stessa figurarsi e dico no, in realtà a me mi dà una gamba a aperti il cap ebbene ragazzi siamo alla fine di questo nuovo episodio di borderland coop, se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace c'è anche la pagina facebook, dovete trattare la descrizione qui in basso, insieme al link di su e G2A dove troverete tante offerte sia per console che per pc se volete ancora seguirmi, iscrivetevi al mio canale noi ci becchiamo al prossimo video, un saluto da FrankCV